In questo video andremo a vedere come Dialogflow possa essere utilizzato non solo da chi progetta e allena il chatbot, ma anche da utenti esterni. Come potete vedere, infatti, in questa pagina che è stata aperta e poi vi mostrerò come, compare il chatbot come è stato creato da una classe terza di un istituto tecnico. Gli studenti, nello specifico, hanno creato questo chatbot per rispondere a domande complesse, per loro complesse, sul principio della competenza economica. Come creare, come arrivare in questa pagina che è accessibile a tutti, quindi non solo agli studenti che hanno lavorato sul chatbot o agli insegnanti, ma anche a persone esterne. Ora ve lo mostrerò. Per farlo torniamo sull'agente che è stato creato, in questo caso è stato creato l'agente principio di competenza economica. In questo caso, gli intenti a cui questo agente risponderà sono quelli creati dagli studenti, al di là del default welcome intent e il default fallback intent. Gli studenti si sono allenati a rispondere su alcune domande legate al principio di competenza economica. Come a questo punto testare non più il chatbot qui nella parte, diciamo nella colonna di destra, try it now, ma come esportarlo. Per farlo, per esportare questo chatbot nella pagina che vi ho mostrato in precedenza, basta scendere nella colonna di sinistra, cliccare su integrations. A questo punto si può scendere con la barra, scrollare fino a text based, dove compare la casellina web demo. Se clicco su web demo, il dialog flow mi dice che cliccando su questo link potrò accedere proprio alla pagina in cui comparirà il chatbot. Clicco sopra e mi ritrovo esattamente nella pagina con cui è cominciato questo video. Io adesso qui scrivo ciao, inizio ad interagire col chatbot, il chatbot mi risponde correttamente e mi dice salve come ti posso aiutare. Se io clicco ad esempio, digito la richiesta cosa è la competenza economica, il chatbot mi risponderà la competenza economica, è un principio eccetera eccetera. Quindi in questo caso lo interroghiamo, come ho detto in precedenza, su delle domande legate al concetto di competenza. Quindi come utilizzare questo chatbot? Lo posso utilizzare sicuramente come studente analizzandolo dall'interno, utilizzandolo dall'interno, per cui utilizzando la colonina try it now. Oppure se lo voglio esportare di modo che tutti coloro i quali siano interessati, fossero interessati a questo chatbot, lo possano andare ad analizzare. Basta, come ho detto prima, cliccare su integration web demo e automaticamente questo chatbot mi comparirà a questo indirizzo. Una cosa interessante è che il dialog flow ci ricorda che se noi volessimo integrare all'interno del nostro sito web questo chatbot, lo si può fare utilizzando il codice che compare in questo box. Sicuramente senza integrarlo in un sito internet, cosa che appunto si può fare, è già di per sé molto interessante la possibilità di poterlo utilizzare da parte di tutti utilizzando per l'appunto il link che viene generato come ho mostrato in precedenza. Spero di essere stata chiara e spero di aver generato in voi la voglia di proseguire con l'utilizzo di chatbot, non solo per il ripasso magari, ma anche per introdurre nuovi argomenti, piuttosto che per rendere appunto più accattivante la didattica nei confronti degli studenti che sono molto affascinati da questa tipologia di applicativi, anche alla luce degli ultimi sviluppi legati a chat GPT. Buon lavoro e aspetto anche i vostri commenti sotto il video.